In cosa consiste la ricostruzione dell'arco aortico nel neonato? Perché deve essere effettuata? Con quale tecnica deve essere effettuata? Se è chirurgico oppure se è transcatetere? L'abbiamo chiesto al dottor Gaetano Gargiulo che abbiamo incontrato qui a Scilla in occasione del congresso di cardiologia Scilla Cuore. Professor Gargiulo, innanzitutto, che cos'è la ricostruzione dell'arco aortico nel neonato? Di che tipo di intervento di cardiochirurgia stiamo parlando? Stiamo parlando di un intervento molto importante perché molti bambini nascono, circa 38.000 ogni anno, nascono con una patologia dell'arco aortico che è ristretto e piccolino e non fa passare naturalmente il sangue. Quindi tutti questi bambini hanno necessità di ricostruire un arco aortico normale. Per ricostruire l'arco aortico normale bisogna eliminare la zona naturalmente ristretta e far sì che il sangue possa poi successivamente passare senza problemi dal cuore fino a tutta l'aorta discendente. È un intervento che dà degli ottimi risultati perché permette a questi bambini di vivere una vita normale in quanto non hanno più nessun problema dopo aver ricostruito il loro arco aortico. Cosa consiste esattamente l'intervento? Cosa fate questi bambini? L'intervento nella maggior parte dei casi consiste nell'eliminare la zona coartata, la zona ristretta e riattaccare in maniera continua con una struttura particolare, riattaccare i due monconi della orta. Così non viene utilizzato del materiale protesico e questo permette una crescita dal neonato al bambino all'adulto dell'arco aortico, dei loro vasi. Il bambino si svilupperà normalmente grazie all'intervento? Diciamo che nel 90% dei casi questi bambini non hanno più bisogno di far niente. In un 10% dei casi bisogna riallargare in qualche modo questa ricostruzione che noi abbiamo fatto, che avviene tramite degli interventi eseguiti per via percutanea. Quindi non si tratta più di veri interventi chirurgici ma vengono eseguiti tramite catetere. Professore, quali sono le patologie che possono determinare appunto questa restrizione dell'arco aortico? La patologia più frequente è la coartazione della orta, che quindi è un restringimento che avviene a livello dell'istimo aortico. Ma la coartazione si associa nell'80% dei casi a un mancato sviluppo dell'arco aortico, quindi ha un'ipoplasia di tutto l'arco aortico, tutti i vasi che escono per andare al cervello. E allora nella ricostruzione bisogna tenere presente questo e ricostruire in maniera completa tutto l'arco aortico per permettere uno sviluppo adeguato al bambino. Ecco, l'hai detto che sono 38.000 case a livello mondiale, in Italia quanti sono, professore? In Italia bisogna tenere presente che un bambino su 3.500 nati vivi presenta questo tipo di patologia. In Italia nascono all'incirca 500.000 bambini, quindi è presto detto fare il conto per sapere quanti sono. Certo, senta, qual è il futuro di questi bambini? Ce l'ha già un po' detto, ma diciamolo in maniera chiara, visto che se c'è qualche mamma che ascolta, ovviamente la cosa per lei è molto importante. Questa è una patologia molto grave nel neonato, perché alcune volte naturalmente se non trattata può condurre anche a un esito in fausto del bambino, ma una volta corretta la vita di questi bambini è una vita assolutamente normale. Bisogna sorvegliarli naturalmente nel tempo, però possono fare una vita assolutamente normale. Anche attività sportiva? Sì, questi bambini possono fare anche attività sportiva e anche attività sportiva agonistica se dopo i controlli tutto risulta nella norma.